Per preparare le palline al cocco ci serviranno 500 g di ricotta, 250 g di cocco, 100 g di zucchero a velo e cacao e cocco per decorare. All'interno della ciotola mettiamo tutta la ricotta e con una spatola lo ammorbidiamo. Mettiamo i 100 g di zucchero nel ricotta e mescoliamo. Adesso metto il cocco e si mescola tutto. Prendiamo un po' di impasto, lo compattiamo e ne facciamo una pallina. Ora possiamo scegliere con cosa guarnire le nostre palline. Allora, per fare il nostro bello dobbiamo applicare qua per ricordare un quadrato e poi tagliamo. Poi dobbiamo piegherla in tutte queste direzioni. Poi prendiamo i due angoli opposti e li pieghiamo verso il centro con questa maniera. Con le punte verso il basso, pieghiamo in questa maniera, poi giriamo e rifacciamo. Poi prendiamo il nello, lo apriamo e pieghiamo verso il centro. Le pieghiamo di nuovo così e facciamo la stessa cosa con tutti e quattro i denti. A questa produzione poi la tagliamo. Su ogni lato facciamo dei taglietti orizzontali. Ora piego ogni pezzetto su se stesso facendo una punta in fondo. Così. E dai per il risultato finale. Buono.